Bentornati su MyFootballGersy. Visto che ormai abbiamo visto quasi tutte le maglie di calcio della stagione scorsa e le nuove della prossima, vediamo una maglia retro. Questa è la maglia del Manchester United per la stagione 2009-2010 in edizione FAN. Grazie a tutti. Maglia strepitosa. La ricordavo così e devo dire che è bellissima. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, perfetta in ogni dettaglio, non potevo chiedere di più. Il costo lo vedete qui sopra, estremamente basso per una maglia che arriva velocissima, questa è arrivata in 22 giorni e che ha un'ottima qualità. Vi ricordo di andare in descrizione a vedere tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ma soprattutto andate a vedere perché trovate un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più vantaggioso. Prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un grande like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.